Wild Hair Parrucchieri, si prende cura dei capelli a 360 gradi. Wild Hair Parrucchieri, veri maestri di bellezza. E' partita la campagna anti-influenzale in Campania che ribadisce come la vaccinazione sia il miglior strumento di prevenzione contro l'influenza. Secondo il Piano di Prevenzione Nazionale Vaccinale è offerta gratuitamente ad alcune categorie di popolazione, come ad esempio gli ultra 65 anni, le donne in gravidanza e i donatori di sangue, coloro che svolgono servizi pubblici e portatori di malattie croniche, come i diabetici e i cardiopatici che se contagiati possono andare incontro a serie complicanze. Tra le novità di quest'anno c'è l'offerta di un ciclo di vaccinazione anti-influenzale nel carcere di Poggio Reale, raccomandata per proteggere dal contagio non solo i detenuti ma anche gli operatori e il personale penitenziario che qui lavora. Nel nostro paese le coperture vaccinali sono tuttavia ancora ben lontane dal 75% che è l'obiettivo del Ministero della Salute e del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini. Proprio per questo motivo ben 8 milioni e 700 mila italiani sono stati colpiti dall'influenza nella stagione passata, tra i quali ci sono stati 764 casi gravi. Rispettare i tempi di vaccinazione è pertanto quanto mai importante per allontanare il rischio di prendere l'influenza. Il vaccino anti-influenzale va infatti eseguito ogni anno tra novembre e dicembre, poiché inizia a proteggerci dopo circa due settimane dalla sua somministrazione. Abbiamo un vaccino quadrivalente che presenta antigeni sia del virus tipo B che del virus di tipo A, oltre ad un vaccino adiuvato che viene utilizzato nei soggetti over 75. Il vaccino quadrivalente invece presenta una maggiore estensione di utilizzo per i soggetti sani e per i soggetti quindi dai 6 mesi ai 65 anni di età. È indispensabile vaccinarsi ogni anno in quanto il virus influenzale è un virus che presenta delle mutazioni frequenti, mutazioni sia di tipo minore che di tipo maggiore che causano epidemie, a volte anche pandemie. Quindi è indispensabile vaccinarsi per poter avere un bagaglio antigenico completo. I detenuti rientrano in una categoria rischio così come indicato dal Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale del triennio 2017-2019. I detenuti vivono in spazi ristretti, vivono in comunità, in particolar modo la casa circondariale di Poggio Reale che è tra quelle che ospita un maggior numero di detenuti. E pertanto la vaccinazione è fortemente raccomandata non solo agli ospiti e ai ristretti ma anche a noi stessi del personale del comparto sanitario, il personale sanitario e il personale della Polizia Penitenziaria. Da Gauto Mitsubishi Motors in via nazionale torrente mercogliano a Villino.